Riprendendo la battuta del terrespettatore, la democrazia cristiana è un'esperienza del passato. Noi oggi siamo in una nuova fase politica, in una fase bipolare e all'interno di questa logica c'è anche questa scelta del periodo democratico di portare il Udc all'interno del polo del centro-sinistra. Quindi questa è una scelta nazionale, cioè di creare una nuova alleanza che va da Sinistra Ecologia e Libertà all'Udc a livello nazionale. Questo è l'obiettivo che abbiamo per battere Berlusconi tra qualche anno e finalmente mandarlo a casa e all'interno di questa logica si collocano anche le scelte regionali. Quindi per noi era da questo punto di vista strategica l'alleanza con l'Udc, appunto in questa logica e noi volevamo in realtà un'alleanza più vasta di quella che poi abbiamo. Poi Sinistra Ecologia e Libertà ha fatto un'altra scelta, ha scelto di andare con le forze con le quali litigata fino a pochi mesi fa, cioè la Sinistra di Rifondazione Comunista. Ce ne ramarichiamo, però andiamo avanti.